Il mio sindaco di Palagonia, Valerio Marletta, potrà contare su un solido gruppo di maggioranza composto da Salvo Grasso, Nicola Giacquinta, Salvatore Marletta, Francesco Di Blasi, Carmelo Sipala, Maria Sipala, Carmelo Toro, Giuseppe Campisi, Elena Campo, Salvatore Longua, Riannardizione, Luca Mudò. Nonostante alcune incertezze emesse dall'ufficio elettorale del Comune di Palagonia che attende i chiarimenti della Regione Siciliana e pronunce formali dell'ufficio elettorale, i restanti otto seggi dovrebbero essere assegnate alle liste La Piazza, Bernardo Vaccaro e Salvatore Sipala, Orgoglio Palagonese e Salvatore Minore, insieme per Palagonia Franco Panebianco, MPA Raffaele Malgioio, Palagonia Futura, Marco Leonardo, PD Antonino Murgue, Scalta Giovane, Mario Calcagno. È stato lei il primo degli eletti già nel primo turno del 6 e 7 maggio nella lista di Valerio Marletta. Quali sono nello specifico alcuni dei programmi che cercherate di portare avanti? Le prime priorità sono l'agricoltura, l'urbanistica, la viabilità, la trasparenza amministrativa e soprattutto un lavoro compatto unito da parte di tutta la lista Palagonia Benecomune, assieme anche alla Giundi e assieme al sindaco Valerio Marletta. Vi aspettavate tutto questo grande successo e riscontro così caloroso da parte della cittadinanza palagonese? Allora dalla piazza si vedeva, però fino alla fine siamo stati un po' sulle nostre perché non pensavamo di avere un risultato così grande, però dico grazie a tutti i cittadini di Palagonia perché siete stati sinceri, avete dimostrato quello che avete fatto vedere in piazza e quello che avete fatto vedere quando passavamo per le strade. Ci avete aperto le porte e noi le apriremo a voi.